Buongiorno, benvenuti. Questa è la segna stampa di oggi 9 dicembre del 2019. Vediamo subito quali sono i temi fondamentali della giornata. Intanto andiamo sulle questioni economiche, perché tra oggi e venerdì bisognerà chiudere questa manovra finanziaria e questa manovra finanziaria non avrà tre letture, perché prima ne aveva tre letture su due Camere diverse. Ne avrà due. Sostanzialmente cosa stanno facendo, siccome non ci sono i tempi? Stanno portando tutti gli emendamenti che sarebbero dovuti essere fatti alla Camera, ma li stanno portando al Senato in maniera tale che si chiude al Senato, la Camera approvi senza modifiche e quindi non si faccia questa tarantella tra Camera e Senato. Tutti quanti indignati, se non ci fossero stati il PD e il Movimento 5 Stelle, avrebbero detto uno scippo della democrazia. Insomma, se questa cosa l'avesse diventata Berlusconi, Salvini, la destra sarebbe stata considerata assurda, ma io dico il fatto che una legge finanziaria debba passare tre volte per due Camere diverse è una cosa talmente ridicola che a me va bene così. Chi se ne frega, insomma, di queste procedure parlamentari bizantine, non procedure parlamentari in sé, ma il fatto che siano bizantine mi sembra ridicolo, anche perché ogni volta che passa per una Commissione e per una Camera le leggi finanziarie ci hanno dentro, non so, i leghisti che vogliono lo sconto per le tute motociclistiche, cosa vera, gli ambientalisti che vogliono lo sconto, non so, per far la pipì nel giardino. Insomma, ognuno ha la sua piccola manovra da fare. Ieri Gualtieri, il Ministro dell'Economia, ha detto e ha fatto bene che non condivide il e che il Governo esprimerà pariere contrario a questo emendamento che si erano pensati PD e Movimento 5 Stelle, non Babbo Natale, ma gli stessi, diciamo, di Gualtieri, per cui si sarebbe dovuto obbligare ogni nucleo familiare, cioè il sottoscritto, ve l'ho detto con mia moglie, per esempio, ad avere una sola casa di residenza fiscalmente, diciamo, detraibile dall'Imu. In realtà, dice Gualtieri, ci sono molte famiglie che hanno una persona che lavora in un posto e la persona che lavora in un altro, pur essendo sposati, questa roba qua non va bene. Beh, insomma, rispetto a quello che vi ho detto ieri, mi sembra che su questo Gualtieri abbia fatto una retromarcia abbastanza interessante. Sono 135 mila, secondo quello che dice il Corriere della Sera, queste false prime case renderebbero qui di un gettito di 200 milioni, ma è un po' difficile calcolare quante siano queste false prime case, perché molti di questi sono famiglie che effettivamente, e pensate alla maestra elementare che deve andare a vivere in un'altra città perché ha vinto il concorso in quell'altra città e non è stata così, diciamo, furbetta da rimanere nella sua regione, è quella magari prendere la residenza in un'altra casa e di proprietà in un'altra città, e beh, in quel caso perché penalizzarla? Sul punto di vista politico, Salvini e Renzi, secondo un accostamento piuttosto ardito del Corriere della Sera, sarebbero d'accordo sulla legge proporzionale, anche se poi a legge l'intervista di Salvini fatta dal Corriere della Sera, beh, insomma, non è che sia così d'accordo, ho detto, non parliamone per otto mesi, a me non me ne frega niente, bisogna che ci siano delle soldi di sbarramento piuttosto interessanti. Quello che è importante è che nel giorno in cui si vota si trovi chi possa governare, esattamente quello che diceva Renzi anni fa, quando voleva invece lo stesso Renzi il sistema maggioritario che oggi non vuole, visto anche che è in un partito che viaggia tra il 3 e 4%, con le attuali leggi il 3% è la soglia minima sotto la quale non si è rappresentato in Parlamento, chissà se Salvini cambierà e accetterà una legge proporzionale con una soglia minima superiore al 3% che farebbe di fatto fuori un po' di sinistra. Renzi, a destra poco perché mi sembra che Dameroni oggi viaggia sopra l'11% e Forza Italia sopra il 7%, se continua così oggi mi sembra sia allo Papa che ci racconta una specie di ridicolo, fai dall'interno di un partito che oggi è al 7% che si litiga tra la Carfagna e la Pascale, questo è il livello al quale siamo arrivati oggi e non si litigano loro due, stanno insieme, non vogliono Iole Santelli, non vogliono Caldoro, insomma questa sembra una roba per cui questi non si... toc toc, forza Italia, vi rendete conto che cosa siete diventati? Magari mettetevi d'accordo per fare, non so, una grande destra liberale, economica, dite le cose, ma litigare per Iole Santelli e per Caldoro, Calfagna con l'altra che stacco le sardine, insomma ragazzi se continua così arrivate al 2% sotto la soglia, mi auguro di no, mi auguro di no, ma comunque insomma un pezzo più bello di oggi è quello di pane bianco, pane bianco sul Corriere della Sera ci dice che lentamente negli ultimi anni e con la prescrizione dal 1 gennaio del 2020 e io ripeto prescrizione votata anche dalla Lega, porca puttana, che doveva capire con chi si era alleata, bene, prescrizione vuol dire che questo paese, dice pane bianco, siamo alla penalizzazione integrale della vita sociale, è tutto penale, è tutto, è trasferire, dice bene pane bianco, dalla democrazia rappresentativa che può avere tutti i suoi difetti, alla democrazia giudiziaria dove non c'è democrazia, 8.000 magistrati, soprattutto gli inquirenti, fanno quello che cazzo gli pare, chiaro, non hanno responsabilità civile, di fatto, non hanno responsabilità penale, di fatto, e possono condannarci alla morte, come dice pane bianco, alla pena di morte perché possono tenerci sotto processo per sempre e noi siamo zitti e muti come delle pecole andando in questa direzione, trascinati da, avete capito chi è? Bonafede e da 4, 5, 10, 15 influenti magistrati che riescono a scrivere sul Fatto Quotidiano che sono esattamente quelli che di fatto oggi stanno cercando di regolare i rapporti politici e sociali per i prossimi 50 anni. Ai vostri figli sapete cosa dovete consigliare? Non di fare ingegneri, non di fare politici, non di fare giornalisti, fate i magistrati, non sarete mai sottoposti a vaglio democratico, non sarete mai indagati, praticamente a meno che proprio non vi beccano con le mani nella marmellata, prendete un bello stipendio garantito per tutta la vita e nessuno mi potrà rompere i coglioni, nessuno! Fantastico, in Italia c'è sempre, dice poi pane bianco, un piazzale Loreto, guarda caso per quei politici forti che hanno cercato di mettere in dubbio questa premidenza della magistratura rispetto alla politica. Craxi, Berlusconi, Renzi, ognuno c'era qualcosa da farsi dimenticare? Forse sì, ma il principio è che quelli venivano eletti e quegli altri no, ma noi continueremo a pensare alle sardine dove dopo la pascale oggi fantastica l'intervista di questo Filippo Rossi che nessuno di voi conosce ma io me lo ricordo perché fece grandi polemiche con noi del giornale quando noi spieghiamo a Rossi Rossi, toc toc, guarda che la casa di Monte Carlo del tuo amato Fini è una truffa, è una truffa come oggi gli stessi magistrati che all'epoca erano alleati di Fini, gli stessi magistrati che all'epoca erano alleati di Fini perché Fini era contro Berlusconi non volevano riconoscere toc toc, casa di Monte Carlo, te la ricordi? E oggi dice bella questa destra che riesce a spinare in piazza con le sardine e questo vi fa capire dove sono finiti i finiani e devo dire lasciamoli là, proprio bella quella piazza in cui Mattia è il leader di questa piazza che non viene a rete 4 e ce ne faremo una ragione, anzi non ce ne fotte nulla perché io faccio una scommessa con tutti voi, secondo voi fra un anno, a parte 4-5 di questi che si candideranno da qualche parte e svolteranno la loro vita personale invece di fare i precari nel giornale di Brodi, insomma secondo voi parleremo ancora di questo fenomeno è il classico fenomeno che spesso avviene di una sinistra ribellista nei confronti del suo partito e dove ci sono dei boccaloni tipo Filippo Rossi che ci credono, nel frattempo quello che ci crede davvero è Landini che in un'intervista oggi, il segretario del CGL spiega per quale motivo ci crede, ma è chiaro, è figlia di quella cultura là. Nel frattempo ragazzi noi stiamo qua preoccupandoci di queste robe ma voi vi rendete conto che oggi sui primi paggi di tutti i giornali si parla di una banana e non è quella di, come si chiama quella banana, di Johnny Stecchino, ve lo ricordate la scena di Johnny Stecchino di un altro cazzone che vi prende tutti per i fondelli, si chiama Cattelan, oltre a fare il cesso d'oro ha preso a Miami Art Basel, ha preso una banana, l'ha messa su un muro bianco, l'ha appiccicata con uno scotch color argento che trovate in qualsiasi ferramenta e tutti la golere, la banana, il significato dell'arte di Cattelan, cazzate, che però sono favolose perché sono quelle che tolgono soldi a ricchi per darle a poveracci, c'è tutto questo mondo che gira intorno all'arte contemporanea, diciamo il cameriere che porta i bicchieri di vino a quelli che stanno lì a guardare la cosa e questa banana significa solo che ieri un altro artista, un altro cazzone, un georgiano naturalizzato americano che cosa fa? Prende e si mangia la banana, che peraltro è stata venduta a 120.000 dollari perché parlo di tutto questo? Perché a parte forse Bonami su Repubblica, tutti gli altri parlano sul serio di questa roba, questa è una grandissima, gigantesca, straordinaria, globale presa per il culo, sono le sardine portate a Miami, solo che là c'è qualcuno che ci fa un po' di soldi, questo genio totale di Cattelan che vi prende tutti, non a noi, per i fondelli e i giornali ne sono totalmente complici, bombe, carta nella manifestazione di Val di Susa, se le ricorda soltanto il giornale che ci dice le bombe, però questa volta bombe ecologiche perché quel treno sarebbe un disastro dal punto di vista ambientale, andiamo avanti così, bombe vere che in realtà corrispondono a cazzotti veri, a me questa storia del tassista romano che dà un cazzotto a un pensionato, peraltro ex tassista che aspettava un taxi a Fiumicino, è una storia che ieri neanche ho commentato perché dico dai un cazzotto a uno che stava lì senza nessun motivo perché te l'ha chiesto il tassametro, quel tassista va in galera o comunque gli tolgono la licenza, no, non gli hanno tolto la licenza, non gli hanno tolto la licenza, quello oggi sta ancora usando il suo taxi, potrebbe andare non a Fiumicino perché il comune di Fiumicino per 48 ore gli ha dato il DASPO, perché c'è questo strumento DASPO per cui è come considerato un ultra, noi siamo in un paese in cui un cazzo di tassista può dare un cazzotto ad uno e stare ancora con la sua macchina a prendere altre persone, il tassista, poi io vi chiedo, vi chiedo cari amici tassisti che mi vedete, ma voi non reagite, non pensate che per un tassista che dà un cazzotto e che peraltro oggi su un messaggero viene considerato violento da molti di voi, come quegli altri tassisti abusivi che sono qua alla stazione Termini e che cercano di prendersi e truffare i turisti, non pensate che ogni tanto a forza di cazzotti l'anno scorso è morta una persona perché gli ha dato un cazzotto a un tassista, ecco questa vostra fama non è che sia tanto ben congegnata e voi partiti di destra, che ve li coccolate gli 8 mila tassisti italiani come quelli milanesi, forse qualcosina avreste da dirla nella legalità, un tassista che dà un cazzotto, io non lo voglio più su un taxi, si è scusato, si dispiace, pensate la cosa straordinaria nell'intervista del pensionato che si è beccato il cazzotto, gli hanno rotto il naso e ha rischiato di perdere un occhio, bene, questo è avvenuto a Fiumicino, a Roma, ieri, quel cazzo di pensionato, quel poveraccio del pensionato non ha avuto neanche quello con la pettorina gialla che sta lì ai taxi a Roma all'aeroporto che l'ha soccorso, io prenderei anche quello con la pettorina gialla e dicevo che cosa hai fatto tu ieri, cosa stai a fare con quella merda di pettorina gialla, perché c'è la pettorina gialla e non ha soccorso il pensionato, io ragazzi ho timore perché siccome lo prendo sempre i taxi, io voglio dire cari tassisti non mi date cazzotti ma permettetemi di dire che questo non è quello che oggi scrive Feltri sul Libero, è una cosa un po' diversa, questa è violenza, Feltri scrive un'altra cosa sul Libero, scrive in questo paese vi è il diritto all'odio come in tutti i paesi, cioè io posso odiare il tassista che ha dato un cazzotto, certo non vado e non gli sparo, non gli do neanche un cazzotto, non gli do neanche una carrezza, ma ho il diritto a quell'odio, sì ce l'ho fino a prova contraria ma ce l'ho anche nei confronti di chiunque visto che sto qui a fare il commentatore, anche se dice Feltri in genere questo diritto dell'odio lo si ha soltanto nei confronti dei partiti di destra e quelli di sinistra per carità se li tocchi finiscono, mi chiedo per esempio perché su nessun giornale si parla seguitemi bene, toc toc, della chiusura su Facebook qua dove sto parlando anch'io della pagina dei pinguini, adesso poi il nome secondo me è anche scarsamente come possiamo dire originale, hanno chiamato i pinguini in contrapposizione alle sardine, ma per quale motivo si chiude questa pagina dei pinguini eccetera, una società privata Facebook, però insomma io un attimo di attenzione nei confronti che chi non la pensa esattamente come la massa che va a manifestare nelle piazze non sia fenomenale, ce l'avrei, nel frattempo oggi ovviamente sui social network l'unica cosa che conta, lo vedrete nelle prossime ore, è la vittoria in Finlandia perché c'è tutto, le donne, giovani, le lesbiche e quelli come me, c'è di tutto, c'è il meglio e il concentrato del politicamente corretto, parleremo solo dell'Islanda oggi come se fosse la cosa fondamentale della giornata, addio invece al mio amico Bertarelli, critico cinematografico e televisivo del giornale, gli volevo molto bene, un mio grande caro amico, collega e oggi Daniele Abbiati lo ricorda sul giornale come l'uomo che veramente potevamo leggere tutti i giorni per sapere i suoi consigli e sconsigli, l'uomo più politicamente scorretto nella sua bonomia che io abbia conosciuto, un vecchio montanelliano del giornale a cui abbiamo voluto tutti tanto bene. Direi che per oggi è tutto, questa sera Quarta Repubblica e noi ci sentiamo come sempre sul sito Nicola Porro e domani. Ciao!